Il 19 dicembre nei locali del Palazzo Comunale si è riunita la Commissione per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte progettuali per il bilancio partecipativo del 2022. Sono state presentate 20 proposte progettuali divise in 5 aree tematiche, 2 per lo sport, 14 per la cultura, 1 per la cura e bellezza del centro storico, 1 per lo sviluppo economico, 1 per la cultura e sviluppo economico ed occupazionale e 1 per la cultura e arrivata fuori termine. La Commissione su vendi proposte ha accolto solo 13 progetti e la Commissione adesso valuterà in altre fasi di dare seguito al procedimento di scelta.